Siamo nell'unità mobile di raccolta sangue dell'Avis insieme alla dottoressa Luigina Festa. Perché anche loro devono donare? In virtù dell'integrazione, giusta integrazione etnica, poiché questa comunità indiana è comunque residente a fondi già da anni, alcuni sono residenti già da sei anni, è giusto che anche loro, come residenti della nostra Italia, della regione Lazio, partecipano a questi eventi di donazione. Anche perché questa comunità singe è molto predisposta a queste cose, ci sono alcuni donatori, già donatori abituali, nei giovani che oggi hanno partecipato alla raccolta e comunque hanno dei principi di solidarietà veramente molto forti, per cui il nostro invito è stato accettato subito. Visto che fuori all'ingresso avete fatto delle selezioni, avete chiesto domande, quali sono i parametri che bisogna rispettare? Ma essendo non cittadini italiani la selezione è un po' più dura. Secondo le linee guida del nostro primario del Siti di Latina, il dottore Quitani, è chiaro che devono avere almeno una residenza in Italia di tre anni e essere iscritti al nostro sistema sanitario nazionale, avere la scelta medica e avere anche un'abitazione qui. Cioè in virtù delle situazioni in cui loro, provenienti da paesi non europei, potrebbero essere portatori di patologie infettive che non ne sono a conoscenza e quindi per noi la sicurezza della residenza qui in Italia da più di tre anni ci pone un po' più al sicuro di eventuali esclusioni di sacche non idonee. Li abbiamo contattati attraverso persone che si occupano della loro specie di sindacato e sono riusciti veramente a comunicare e ci avevano assicurato una bella partecipazione che effettivamente è così. È un loro modo di proporsi per l'integrazione ed è una cosa estremamente positiva. Veramente speciale anche perché c'è questa integrazione a livello nazionale di queste persone ed è giusto che diano anche loro per avere dagli altri. Vi sembra, vista la gente che c'è, le persone che ci sono, un successo? Sono molto disponibili, devo dire la verità, veramente lo stanno facendo senza costrizione, con una spontaneità che dovrebbe insegnare qualcosa anche a noi. Il signor Rattan, responsabile della Will di Terracina, insieme al presidente della comunità locale indiana, Sinkaramagit. Allora, una grande e forte partecipazione questa mattina. Certo, siamo quasi al 20-25 persone che stamattina sono andati al lavoro, però volevano fare questa donazione del sangue perché per noi, per integrare nella società fondana, diciamo, è una cosa molto importante, a parte che, come oggi parliamo di immigrazione, è una cosa che gente ancora non riescono a pensare che un immigrato può essere anche una parte della società, che si può dare anche donando sangue. è un gesto da parte della comunità indiana per città di fondi, che noi anche abbiamo da parte nostra di fare tutto quello che possiamo fare per la società fondana, di essere i stranieri per essere integrati in questa società. Hai appena donato il sangue, ora giustamente stai mangiando qualcosa per riprenderti. Com'è stato? A posto, tutto, niente, io non metto paura, ho dato sangue, io piace sempre dare sangue a altre persone. Altri donatori? Perché avete deciso di donare il sangue? Perché donare il sangue? No, però altre persone come male, io pure aiutare, solo aiutare, ma basta.